Mentre la ricostruzione privata all'Aquila ha preso il volo, restano problemi per la ricostruzione pubblica. Ci sono oltre 600 milioni di euro stanziati per la ricostruzione pubblica e non ancora utilizzati, non ancora spesi. Una ricostruzione pubblica che sembrerebbe dunque ferma al palo e che va a un'altra velocità rispetto a quella privata, come conferma anche il presidente del Lance, Ettore Barattelli. Sono oltre 600 milioni di euro stanziati e non ancora spesi tra le varie stazioni appaltanti. Lance sta predisponendo ormai da tempo numerosi dossier che sta sottoponendo anche all'attenzione della stampa per fare un'informazione positiva e collaborativa con tutte le stazioni appaltanti. È necessario un grande sforzo di efficienza. Abbiamo chiesto tra l'altro ai candidati sindaci che ci hanno risposto in senso positivo, che è opportuno convocare, formare proprio un tavolo ad hoc per la ricostruzione pubblica perché non si può pensare a un centro storico con le case finite senza gli uffici pubblici. All'Aquila comunque si tratta di un modello vincente, una ricostruzione sicura. L'Aquila, città sicura dopo il terremoto del 2009. 99 gru si vedono nei cieli aquilani. 99 che è un numero evocativo per la città dell'Aquila. Un discreto movimento che si vede per quanto riguarda la ricostruzione, soprattutto nell'asse centrale, con palazzi davvero bellissimi che a breve verranno restituiti. Insomma, non si sa quando, ma l'Aquila sicuramente tornerà più bella di prima, ma soprattutto in sicurezza. Abbiamo contato 99 gru, un numero evocativo, simbolo della nostra città. Siamo a circa il 50% della realizzazione del centro storico. Crediamo si possa fare di più, l'intenzione c'è, l'importante è che tutti gli attori del processo facciano la loro parte e non si inceppi il meccanismo.